La sanità pugliese ha bisogno più di competenze che di infrastrutture, ad affermarlo il direttore della ASLA di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, durante il forum Mediterraneo in Sanità che si è svolto a Bari. L'attenzione si deve concentrare sugli aspetti organizzativi, le risorse umane e i modelli di governanza, detto Pasqualone, da mettere in campo per utilizzare la tecnologia, così come abbiamo fatto a Brindisi già prima della pandemia, grazie anche all'organizzazione dipartimentale. Ci ha consentito di gestire al meglio le risorse umane, le risorse tecnologiche, ma soprattutto i percorsi clinici di ingresso e di presa in carico dei pazienti Covid, per cui non abbiamo avuto ambulanze in coda, abbiamo avuto tempi di dimissione ospedalieri brevissimi, abbiamo avuto soprattutto una gestione a domicilio e una gestione nel presidio territoriale di assistenza, quindi agli ospedali di comunità che sono diventati ospedali post-acuzze, di pazienti per i quali si poteva evitare l'ospedalizzazione. Questo è stato ovviamente il nostro elemento fondamentale che ci ha consentito di avere una gestione ottimale dell'emergenza sanitaria. Noi vorremmo che gli ospedali, ne rimanessero pochi, avessero una gestione integrata tra di loro, ma si occupassero soprattutto della gestione delle patologie acute. Invece tutto il resto fosse gestito in modo diversificato, ovviamente a seconda di quella che è l'esigenza e lo stato di bisogno del cittadino, sul territorio. Grazie.